salve a tutti e ben ritornati oggi vi presento una ricetta facilissima e davvero profumata si tratta di una ricetta tipica della mia zona nel periodo pasquale sto parlando dei taralli lessi all'anice facili e davvero buoni io adoro il profumo dell'anice che mi riporta sempre un pochina dell'infanzia questo video in collaborazione con 100 per cento abruzzese un portale che parla totalmente dell'abruzzo dalla cucina alle mattità potete trovarli e trovare i loro prodotti sul loro shop e sul loro blog oppure cercarli su facebook o su instagram io naturalmente vi lascio tutti i loro link nel box informazione e li ringrazio tantissimo per la collaborazione non mi resta che lasciarvi alla ricetta ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.